Giacomo, ma dobbiamo vendere Piazza San Francesco? No Alessio, semplicemente la stanno riqualificando stanno creando anche un parcheggio a utilizzo nell'intero quartiere e a 20 metri ho una chicchetta che secondo me ti piacerà Un appartamento? Appartamento, tre vani in fase di ristrutturazione Andiamo a vedere E comunque si chiama Piazza Mario Pagano, non San Francesco Chiedo scusa, andiamo Benvenuti e oggi vedremo una casa in fase di ristrutturazione Da questa parte entriamo e andiamo a un piccolo disimpegno che ci porterà nella zona giorno Una zona giorno che in questo momento è separata dalla cucina ma abbiamo questo muro che potrà essere abbattuto per creare un grande open space La cosa bella è che ci saranno anche due balconi ad angolo La casa, data la posizione angolare, gode di un'ottima luminosità Da questa parte abbiamo un primo vano Un primo vano nella zona notte Questa camera si presenta come tutte le camere di questo appartamento con un proprio balcone privato con affaccio su strada Proseguendo Possiamo vedere che abbiamo da questa parte il bagno Bagno che è stato ristrutturato negli impianti e dovrà semplicemente essere personalizzato con i rivestimenti E per ultima vediamo la seconda camera da letto che anche questa qua si presenta spaziosa e luminosa con affaccio sempre su una strada principale Su questo ampio balcone possiamo terminare la nostra visita Se cercate un immobile in zona centrale da personalizzare secondo i vostri gusti potete semplicemente chiamarci